Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Irene e oggi andremo a truccarci con tantissime novità make-up E quando dico tantissime sono seria, le ho messe tutte qui dentro in questa specie di cesta Sicuramente c'è qualcos'altro sparpagliato per lo studio, però andiamo per i gradi Cominciamo adesso con quello che ho messo qui E direi di cominciare con le novità di Maybelline per le sopracciglia Abbiamo questi due prodotti che si chiamano Tattoo Brow Sono dei gel colorati per sopracciglia, io ho un po' polla se devo essere sincera Perché che ho fatto? Le ho già fissate, quindi prevedo il disastro Comunque andiamo a provare questo prodotto, magari vado proprio piano piano giusto a riempire e a colorare un pochino le sopracciglia E appunto è un gel colorato, vedo proprio che ha la lacrimina sullo scovolino Aiuto, forse è un po' troppo scuro Però vediamo un po' Io non sono fan di questi prodotti, già ve lo dico Sicuramente a colorare colora Sicuramente prima di mettere il gel sarebbe stato meglio Troppo tardi La cosa che non apprezzo troppo di questi scovolini È che se devi riempire magari la parte finale, cioè non riesci Questo è un prodotto top Se vuoi riempirle velocemente, fissarle un pochino, pettinarle Velocemente proprio che c'hai i minuti contati Perché altrimenti non mi piacciono questi prodotti Bene, con la saliva cancelliamo tutto quanto La sbafatura Cominciamo malissimo Darò la colpa comunque a me stessa Perché non dovevo fissare le sopracciglia prima di applicarlo Questo magari lo riproviamo Anche se so già che non fa per me Preferisco andare con una penna o con una matitina A fare l'effetto pelo-pelo Molto più delicato Infatti adesso la fine delle sopracciglia La farò in questo modo Con la brow pen di NYX Partiamo molto bene con questo video Provo novità La prima novità che provo Schifo Non lo so Cioè odio le sopracciglia che mi sono appena fatta Le odio, le odio Non mi piacciono Brutte Comunque, fun fact Lo scorso giovedì mattina Mi sono ritrovata a sbrigarmi Per farvi uscire il video il venerdì Quindi il giorno dopo E mi sono detta Irene Cioè qualsiasi cosa accada Tu mai più Mai più ti ritroverai a girare un video per YouTube Il giorno prima Di corsa Mai più Che giorno è oggi mamma? Dove lì Non c'è niente da fare Il lupo perde il pelo Ma non il vizio E niente Quindi siamo di nuovo qui a fare le corse Motivo per cui sono partita proprio diretta subito Proviamo le cose Perché sto pensando a quanto ci metterò a fare questo video A farlo bene A farlo bene A editarlo A sistemarlo A caricarlo Entro domani Top Ma andiamo avanti con la base Allora sono usciti due nuovi prodotti di KVD Vegan Beauty O come piffero si chiama adesso Non lo so Primer e fondotinta Allora Allora questo primer si chiama Pore refining primer Ed è un primer che ho già provato su TikTok Anche il fondotinta Infatti ecco Vi dico subito che Molti di questi prodotti E no Sì niente No vabbè tutto bene Tutto bene Sono ancora in tempo per sistemare queste cose Allora Ciak Ricominciamo Andiamo a provare questo primer di KVD È un primer che va sia a idratare la pelle Sia a fare un effetto Porfilling Quindi che va a minimizzare A riempire i pori Rimanendo comunque un prodotto idratante Se non sbaglio senza siliconi Questo l'ho già provato Non mi dispiace L'unica cosa che devo dire Non mi fa impazzire in combo con il fondotinta Comunque lo andiamo ad applicare E massaggiare sul viso Non mi fa impazzire in combo con il fondotinta Perché Ah se mi vedete strano Non ho il set Mi ho perso una pallina E l'ho tolto provvisoriamente Forse Ho fatto un sondaggio su Instagram Infatti ecco Se ancora non lo fate Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdere i prossimi video E venite a seguirmi anche su Instagram E TikTok Dove molto spesso Provo tantissimi prodotti Con molta più frequenza In maniera molto più immediata Infatti Avevo provato questo primer E il fondotinta assieme Un po' di tempo fa ormai Comunque Fa un leggero effetto grip Irrata la pelle ma non troppo Non lo sento troppo siliconico E mi sembra che vada un pochino Qui a minimizzare A levigare la zona dei pori Quindi questa cosa mi piace Non mi piace in combo con il fondotinta Che hanno fatto uscire assieme Sempre della linea Good Apple Perché il fondotinta Si chiama Full Coverage Serum Foundation Quindi è un fondotinta Siero Super coprente Ed è vero È molto coprente Però non lo trovo Per niente idratante Anzi Rimane un po' asciuttino E proprio perché È un pelino asciuttino Secondo me Mista grassa top Pelle secca No Pelle agere No In combo con un primer Che comunque Va a asciugare A opacizzare Questa zona Non mi piace tanto l'effetto Però sicuramente Se avete una pelle Molto molto oleosa E grassa La combinazione Di questi due prodotti Può fare al caso vostro Comunque Prima di applicare il fondotinta Motivo per cui Prima ho fatto tipo Ah no Aspetta È che abbiamo anche Un altro prodottino Da provare Prima del fondotinta Questa palettina Di correttori Di neve Ora come si chiama Questa Ok si chiama The Editorial Ed è una palette Di correttori Ci sono soltanto creme Per fare la color correction E volendo Per realizzare in generale Una base Totalmente in crema Mi sembra molto interessante Io apprezzo tanto La color correction Mi piacciono questi correttori Un po' più materici Da applicare In alcune zone In alcuni spot E la trovo anche Molto professionale Comoda Da inserire in un kit Se siete makeup artist Questo non è il mio caso Lo userò solo per me Comunque sembra molto carina L'ho provata solo una volta E ho pensato appunto Di provarla Al di sotto del fondotinta Del correttore Quindi prendo Dicevo Un pennellino Tipo così A lingua di gatto E vado prima A fare la color correction Dell'occhiaia Per contrastare La parte più grigia Prendo questo Rosino Pesca E questo Aranciato Faccio un po' Un mix Perché il rosino È troppo chiaro L'arancione È troppo scuro E quindi faccio un po' Un mix Carina questa cosa Che appunto Li potete mixare Un po' assieme Per ottenere Il colore perfetto Per voi Vado a sfumarlo Vi faccio vedere Anche proprio La differenza E lo tampono Lo sfumo Nella parte Più scura Sulla parte Più scura E grigia Della mia Occhiaietta Bellina Da panda Questi correttori Li potete Tranquillamente Applicare Anche con il polpastrello Anzi meglio Perché andate Proprio a scaldare E affondere Con la pelle Il prodotto Comunque Questo qui È l'effetto Qui ho applicato Il correttore rosa Pesca E qui No Come vedete C'è palese La color correction Quindi Devo dire Molto carina E volendo c'è anche Il verde In questa palette Che potrebbe Che va A contrastare Il rosso Avendo tanti Brufoletti Potremmo provare A mettere Un po' Di correttore Anche lì Ora Vado a prendere Il verde E lo applico Vedete Qui ho il brufoletto Lo applico Un po' Su questo Brufoletto E un po' Qui ci vorrebbe Non lo so Tutta la faccia verde Per coprire Tutti questi rossori Però vabbè Piano piano Ci armiamo Di Ci armiamo Di santa pazienza E Andiamo Ai lati del naso Ok Beh Sicuramente Siamo un po' Più uniformi Però questa è solo Una base E direi di andare Con il fondotinta In realtà Ci sono altri fondotinta Da provare Come per esempio Questo di Corf Che mi hanno inviato Non so se sia una novità Però l'ho provato Soltanto una volta E mi ha fatto Un'ottima impressione Magari lo riproviamo E ne parliamo Su TikTok Direi di andare Con questo Che sicuramente Vi interessa Molto di più Con quello di KVD Super coprente Applico Un paio di pump Ma devo fare un mix Delle due tonalità Che mi hanno inviato Perché una è troppo scura E una è troppo chiara Due pump Dell'altro Vi faccio vedere Quanto è coprente Colore Vabbè Comunque Non molto azzeccato Ma non vi preoccupate Poi sistemiamo tutto Con Bronzing Blush Molto coprente Non è pesantone Sul viso Devo dire Non avverto L'applicazione Di un Prodotto Pastoso Pesante Però allo stesso tempo Non è un prodotto Idratante Vi fa un finish Soft Matte Sì Effetto seconda Pelle Ci può stare Poi dipende anche Da quanto prodotto Applicati Io ne metto Abbastanza Ma ne metto Pochissimo in fronte Cioè non vado Ad aggiungere Il prodotto Perché appunto Lo trovo Leggermente asciuttino Per me E poi qui Visto che ho tantissime Rughe D'espressione Mi va nelle pieghe Non mi piace Allora Sembra molto Molto chiaro Però vi dico Anche che ossida Quindi aspettiamo Un attimo Questa cosa Che non ho il septum E posso tranquillamente Applicare i prodotti Sul naso Senza pensare Sto azzando le palline Ok Questo qui È l'effetto Magari vi avvicino Un po' Così lo vedete più Da vicino appunto L'effetto è molto carino Molto coprente Però A lungo andare Si asciuga Quindi Non lo so Fate le vostre valutazioni Se vi interessa provarlo Magari chiedete un campioncino Da Sephora Ve lo consiglio sempre Quando c'è un prodotto Che pensate Possa fare al caso vostro Chiedete da Sephora Un campioncino Vi danno proprio Un sample Una cosina bianca Che si apre Con dentro il fondotinta Lo provate a casa E guardate il colore Alla luce del sole Non dentro il negozio E poi Decidete se acquistarlo Si tratta comunque Di prodotti Che costano Questo dovrebbe stare Sui 35 euro Se non sbaglio Quindi insomma Come correttore Abbiamo diverse cose Mi hanno inviato Per esempio Unfaible Di L'Oreal Se non sbaglio Hanno cambiato un po' La formula Però non ne sono sicura Tra l'altro Mi hanno inviato Anche il fondotinta Con l'aggiunta Di niacinamide Se non sbaglio E sarebbe interessante Provarlo Ma magari lo facciamo In un video corto Su TikTok Poi ho anche Il Cure Makeup Skin Booster Il collettore illuminante Di Corf Questo penso Che useremo Sì Perché è molto bello L'ho provato solo una volta Ma mi ha fatto Un'ottima impressione E poi Da puro bio Ci sono arrivati Tantissimi Matitoni Per tantissimi Step Infatti questi Qui sono proprio Dei matitoni Correttivi Dei correttori Sotto forma di matitoni E ci sono anche L'illuminante Il matitone Per fare Sculpting Il matitone Per fare Bronzing Matitone illuminante Matitoni per gli occhi Matitoni per le labbra E matitoni a mo' di rossetto Quindi abbiamo tutto E Ho fatto un video Su TikTok Che è andato anche molto virale In cui mi truccavo Solo ed esclusivamente Con questi matitoni Quindi se vi interessa Vedere la performance Magari di Tutti quei prodotti Messi insieme C'è il video Intanto direi di applicare Il correttore Di Corf Che è Molto Molto Bello Illuminante Idratante Mi ha fatto un'ottima impressione Però appunto L'ho provato solo una volta Quindi ho pensato di Riprovarlo Oggi Con voi Perché Corf È un brand Che si trova in farmacia È un brand Conosciuto Secondo me Più da Gli adulti Mettiamola così Però appunto Se è un brand Che vi ispira Perché appunto È venduto in farmacia Prodotti Non lo so Un po' più professionali Ci può stare Questa linea Secondo me Fondotinta E correttore È top Per le pelli A G Perché È proprio C'è Bello Radioso Rimpolpante Con sicuramente Degli attivi Dei principi Skincare Quindi Se cercate Un fondotinta Adatto A pelle A G Provate Quello lì E questo Correttore Con Che vado a sfumare Cioè vedete Che bell'effetto Rimpolpato Coprensa Naturale Ma abbiamo Già fatto La color correctional Di sotto Quindi dovremmo Stare Bene In teoria Voilà Questo è Però continuerò A provarlo Adesso andiamo avanti E appunto Non ho altri prodotti In crema Oltre a Per fare bronzing O sculpting Oltre agli stick Di Puro Bio Quindi Andiamo a creare Un po' di profondità La nostra base Con Questi Faccio anche Un pochino Pochino Di contour Al naso Così Qui E sfumo Si sfumano molto bene Secondo me Sfumo con un pennello Tutututu Crea un bell'effetto ombra Proprio questo colore Va benissimo Per fare sculpting Sul mio incarnato Scusate La voce Un po' Strana Ma Ho tipo La tosse Secondo me Tosse nervosa Il mio solito Reflusso Se mi seguite Su TikTok Lo sapete E Niente Mi apprezzo Questa tosse strana Quindi ogni tanto Magari taglierò Tutti i pezzi In cui faccio Così Però sappiate Che lo sto facendo Spesso Ok Mi piace Questa situazione Un po' scolpita Ma in maniera Perucchio In maniera naturale Come blush Abbiamo appunto I matitoni Di Puro Bio Ci sono queste Quattro tonalità Molto molto carine Io per ora Ho provato Questa E Questa Se non sbaglio Però 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 Abbiamo I nuovi blush Di Astra So che Astra Mi interessa tantissimo È un brand Low cost Ha fatto uscire Questi blush Liquid Che ricordano un po' Blush liquid Body rare beauty Per esempio Anche i colori Ce ne stanno un paio Che Potremmo definire Dei dupe Veri e propri Questi qui sono Dei prodotti In realtà Lip and chic Quindi anche per le labbra Noi applicheremo Li applicheremo Solo sulle guance E come colore Oggi Io se non sbaglio Ho già provato Questo Questo rosino Che è la tonalità Numero 2 Mi sa che vado Con La 3 Questa qui Sembra molto carina L'ho già provata Appunto Solo una volta E vi posso Già dire Che sono molto pigmentati E si asciugano in fretta Mi sa che il finish È tipo Opaco Infatti vi consiglio Di fare un paio di pump E di andare a sfumare Immediatamente Perché Altrimenti c'è il rischio Che si asciuga E non si sfuma benissimo A parte questo Niente da dire Sul prodotto Pigmentazione giusta Se sfumate in tempo Si sfumano Senza problemi Colore omogeneo Un bel effetto Sulla guancia E i colori Sono molto carini Poi appunto Vengono tipo Sui 7 euro Ci può stare Bello questo colore Che dite Questa tonalità Metterei ancora Un pochino Lo sapete Io Amo Il blush Mi ci farei Il bagnetto Quindi Eccomo L'ho messo troppo Aiuto Andiamo dall'altro lato Tutto Sfumo subito Questo pennello Questo pennello Comunque La scoperta Del secolo Se mi ricordo Vi lascio Il link Al kit Lo trovate Su Maki Beauty Italia Non so se è un codice Sconto Ma in caso Se è ancora attivo Ve lo scrivo Non è affiliato Non ci guadagno nulla Però Mamma mia Pigmentato Sei pigmentato Amico Aspettate un secondo Che qua La cosa La situazione Sfuggita di mano Un pump O due Massimo Massimo Non fate come me Però bellissimo Mi piace Vi stavo dicendo Questo pennello Favola Si trova in un kit Di Jessup Che costa 30 euro Ma tipo all'interno Bo Venti Pennelli Occhi e viso E questo è Meraviglioso Lo uso per i prodotti in crema Per il fondotinta Lo uso letteralmente Per tutto E se l'ho usato Per il blush Lo pulisco Per andare a usarlo Per qualcos'altro È proprio bello 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 Vale praticamente Tutto il kit Cioè tutto il set Scusatemi Quindi se mi ricordo Vi lascio il link L'ho usato anche Per sfumare I corretti Questi Quando ho fatto il video Su TikTok Per Con i matitoni L'ho usato per sfumare Quelli in due secondi Vita Dunque Ho settato Leggermente La base Per chi non ho Niente di nuovo Se si parla di ciprie Bronzer Eccetera Andiamo di nuovo Con un altro blush Quello in polvere Perché sono usciti I nuovi prodotti Della collezione Di Nicole Pallado Che si chiama See You Che si compone di Due blush Luminosi E di due tonalità Di rossetti Ho già provato Una tonalità di blush E una tonalità di rossetto In un video su TikTok Quindi potete andarlo a vedere lì Oggi direi di andare con l'altra tonalità di blush Adesso ve le faccio vedere comunque Questa è la tonalità Illusion Che ho già provato Molto molto bella Molto molto portabile L'altra se non sbaglio È una tonalità Che si chiama Dreamscape Un pochino pochino più pop Un pochino più pop E accesa Era il postino Vabbè Non per noi Comunque Vado È molto pigmentata Questa formula Di blush Luminosi Ma non glitterati Questa cosa mi piace molto Perché blush glitterato Magari no Questo ha una bella perla Molto sottile Fa questo effetto Di guancia Tridimensionale Rimpolpata Che mi piace Tanto Voilà Questo è l'effetto Molto molto carino Oggi praticamente La base la facciamo solo Fatta di blush E luce A proposito di luce Beh in realtà Sono uscita un bel po' ormai Però possiamo Cogliere l'occasione Provo novità Per andare ad applicare Anche il nuovo Illuminante di Charlotte Vabbè Mentre finisce Il Di un qualche antifurto Vi faccio vedere Che ho rifatto le unghie Quanto sono Belle Non le ho mai fatte così Le amo Me ne sono Totalmente innamorata Ok l'antifurto Sembra che abbia finito Di rompere le scatole Dicevo Andiamo a provare Vi faccio vedere L'illuminante di Charlotte Tilbury Bellissimo Mi sta piacendo tantissimo È molto sottile Luminoso Fa questa luce Stupenda Ma sicuramente Avete già visto Che lo usavo In altri video In altre situazioni È proprio bello Non c'è niente da fare Charlotte I prodotti per la base La vita Cioè State guardando Lo zigomo Brillo E voilà Altra ed ultima novità Per la base Se non erro È il Setter CEO Di Mulac Un Setting spray Idratante Che va a A togliere la polverosità Alla base A far Uniformare In un certo senso Tutti i prodotti Mi sta piacendo Veramente tanto Poi il getto è molto Così capito È Molto delicato E L'odore è tipo Di caramella dolce Ma secondo me Sa di Coca Cola Ma in tantissimi Lo stiamo dicendo Sa proprio di Coca Cola Molto buono Veniamo ora Agli occhietti Posso dire un po' Che palle Vabbè Parliamo di Novità occhi Di Huda Beauty Questo Abbastanza interessante Qui abbiamo Due casual Automatici Pigmentati E sfumabili Adesso li proviamo Ovviamente Di Huda Marrone E nero Utili Mi ispirano Non ho provato mai I matiti occhi Di Huda Quindi Va bene Poi abbiamo Due Matte Obsession Due palette Del solito formato Di Huda Allora Apprezzo Il formato Piccolo Fatto in versione Total Matte Apprezzo Una più fredda Una più calda Top Apprezzo Il fatto che all'interno Ci siano due Scialde Cremose L'ho un po' Sbocciata E questa L'avevo provata Vabbè Il problema È che Questa È troppo Troppo Arancione Ci avrei preferito Magari Un senape Un marrone Cioccolato Un caramello Un aranciato Questi sono Praticamente Tutti aranciati Virano tutti Sull'arancio Ni Non lo so Non lo so Non mi ispira Particolarmente Questo Stesso discorso Potevano Scegliere Dei Nude Mettere un Colore un po' Più Grigino Marroncino Freddo Tortora Invece Sono tutti Lilla Lilla Malva Smorti Non lo so Forse avrei fatto Delle scelte Differenti Perché poi Sugli occhi È un po' Flat La situazione Però comunque L'idea Total matte È carina Ci sta È in trend Va bene Direi a questo punto Di creare Da una parte Un look Caldo Con la matita Il kajal Marrone Dall'altro Kajal Nero E Trucco Occhi Freddo Vediamo Cosa Esce fuori Cominciamo Con il lato Caldo Prendo il Kajal E creo Una forma Che parte Da sotto Voglio fare Tipo il reverse Cat eye Da questo lato Almeno Quindi Crea una specie Di eyeliner Che porto Anche Sotto E Coloro Anche La rima Interna Beh Pigmentato Comunque La rima Interna Da subito E Mi sembra Molto Cremosa Molto Molto Cremosa Cioè Un attimo E colora Madonna Quanto è che Non facevo Un reverse Che taglia Adoro Ora Mi serve Un pennellino Angolato Tipo Questo Con cui Sistemo E inizio A sfumare Il Kajal Faccio Una bella Punta Allungata Ok A questo punto Prendo Il marrone Qui E Lo tampono Per fissare Tutto Il mio Eyeliner Tutta la mia Matita Molto Intensa Come situazione Per ora Mi piace Poi farò Anche L'angolino Interno Ma ci penso Dopo Adesso Ho un po' Timore Prima Finisco Il look E poi Aggiungo L'angolino Interno Che potrebbe Star bene Ok Mi piace La scrivenza C'è Tutto Fatto In due Secondi Devo dire Ovviamente Adesso Dobbiamo Usare Tutti gli Altri Colori Allora Direi 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 Di Andare a sfumare Il Kajal Qui sotto Con Questo Sì E sfumiamo Per rendere Appunto La linea Meno Netta Magari Vi avvicino Che dite Avete ragione Potevo farlo Prima Too late Se vedete Quanto è Arancione Che non è Brutto Per carità Eh Però Poi Figuratevi Vabbè Il solito discorso Ormai lo sapete Ormai Non mi vedo Più Con i colori Caldi Quindi sta paletta Aranciata Mesta un po' Qua Però Noi Facciamo Quello Che possiamo Fare Con ciò Che abbiamo Vediamo Adesso Sempre con Questo pennellino Prendo Il colore Centrale Che è Un po' Più Nude E mi Attenuo Ancora Meglio La sfumatura E i contorni Ma no Quanto fa brutta E le sopracciglia Posso dirlo Beh Una cosa sobria Insomma Adesso Invece Nella piega Prendo sempre Un'arancia Cioè Che c'è Prendo Questo Dai Prendo questo Qui Che sembra Quello meno Arancione E Lo Applico Un po' Qua Nella piega Giusto Per dare Un pochino Un pochino Di profondità Non lo so Che sto a fare Sinceramente Ok Porto anche Un po' Qua Pennellino Un po' Più Fluffy Di nuovo Il colore Qui Centrale Chiaro Ma che è Cioè Praticamente È strano Perché sembra Che mi abbia colorato Ancora più di arancione Ma che era sporco Sto pennello No Sulla mia pelle È uscito fuori Arancione Non so se percepite Che strano No Terribile Terribile Adesso tutta Tutta arancione No Prendo lo studio fix Di mac Provo a sistemare Almeno Sotto l'arcata Del sopracciglio Non voglio L'arancione Lì sotto Che cavolo Può schiarire Un po' Meglio Dai Ok Adesso Che ci inventiamo Proviamo il colore In crema Ce ne sono due Uno marrone Però abbiamo usato Il kajal Per fare la base E poi questo qui Che invece è un po' Più chiaro E lo usiamo Praticamente Sulla palpebra mobile Per illuminarla Ma so come che parlo Con la cantilena Quando mi trucco Devo allenare Su questa cosa Su questo aspetto Aspetto Ariglie Vabbè Comunque Mi sembra che si stenda bene A modi Primer occhi Non lo so Non so se si capisce Cosa sto cercando Di fare Non troppo preciso Magari lo apriamo Ci fa anche da Punto luce Ok Fatto ciò Andiamo con Questo colorino Che non mi piace Particolarmente E proviamo a Fissare La nostra palpebra Vedete che è Arancione Ci sua Io Io l'avrei lasciato Molto più chiaro Cioè tu mi metti Una crema Chiara Per fare l'effetto Illuminato E credo Per fare appunto Tipo cut crease Base Per poi fare un look Totalmente opaco Però se tu l'opaco Più chiaro Me lo metti Letteralmente Pesca Arancione Mi rovini Mi rovini l'effetto Non lo so Mi rovini tutto Cioè Non è Non è un bel effetto Secondo me Questo Se fosse stato Chiaro 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 Sarebbe stato meglio Non lo so E non like it Fatemi sapere Che ne pensate Di questa situazione Se invece Per voi Questo colore È sufficientemente Chiaro Non lo so Cioè Più che altro Dico io No Posso dimettere Questi due colori Che sono praticamente La stessa identica cosa Vedete Identici Mettimi un colore Più chiaro E Uno solo di questi Non capisco Vabbè Ok Direi che l'effetto Occhio allungato L'abbiamo portato a casa E Non vedo l'ora Di A questo punto Sperare Tentare la fortuna Con il look Freddo Sperando che esca Qualcosa di più carino Ovviamente Cambiamo struttura Cominciamo con il Cajal E ci creiamo Anche qui Devo fare attenzione Con il microfono Qua Subito Subito Vado con la matita Nera Anche Nella rima interna Ecco Le matite Mi stanno piacendo Devo dire Molto Molto Belle Scriventi Scorrevoli Top Secondo me Bon Adesso Vado Vado subitissimo Con un pennellino Fluffy Qui nella piega E mi sfumo Tutto questo nero Sto cercando di rendere Il look Più strutturato Perché altrimenti Esce fuori una cosa Malva Praticamente Invece così Magari Riusciamo a dargli Un po' più di carattere A questo punto Sempre con questo Pennellino Scelgo Un malva Which one? Beh Non so Ecco Qui hanno fatto il contrario Qui hanno messo Un colore In crema Di media intensità E dei colori Più chiari Per fissarlo Ma in che senso Vabbè Non lo so Non lo so Provo a sfumare Questa crema Vediamo che succede Provo a sfumare Con il kajal Questa cremina Proprio Te sto facendo Una schifezza Però Vabbè Non è tragica La cosa Adesso Prendo Questo Viola Scuro E lo Applichiamo Sempre nella piega Per dare ancora più profondità Al nostro Look Qui Poi sulle creme Dovrebbe Essere bello Pigmentato Che ho fame Mi voglio Mi voglio Sfridare Il viola Il viola Con un pennellino Di precisione Lo uso anche Per sfumare Il kajal Nella rima Inferiore Così E prendo subito Uno dei due rosini Uno dei due rosini Almeno questo Almeno questo Prendo sempre Questi Questi rosa Pennellino Fluffy E diffondo Per bene La sfumatura Già Diecimila volte Meglio A sfumarsi Comunque Si sfuma Tutto Per bene Adesso Riprendo Il kajal E mi intensifico Solo la parte Finale Vicino All'attaccatura Delle ciglia Prendo Un pennellino Angolato Comunque Mi sa Che sono Diventata La cieca Non vedo più Niente Tutto che sto Con lo specchietto Qui Non ce vedo La vecchiaia Inizia a farsi Sentire Prendo Il viola E lo Tampono Lo presso Sulla linea Che abbiamo appena Creato Un po' Così Penso che da quest'occhio Che non ce vedo Può Può essere Ok Potremmo fare anche qui L'angolino interno Giusto per creare Un po' Di continuità Prendo il rosa Prendo il rosa più chiaro Proprio quello chiarissimo E lo tampono Creando una simile cut crease Non troppo troppo precisa Non troppo netta E niente Per rendere opaco E chiaro L'inizio dell'occhio Tanto ragazzi Stiamo solo provando Un pochino così Non sono troppo entusiasta Ecco Però l'effetto Non è brutto Ci può stare Il bello dell'occhio Incappucciato Tutto quello che fai qui sopra Tanto alla fine Non si vede Ok Questi qui sono I look Che abbiamo Tirato fuori Fatemi sapere Quale vi piace di più E applichiamo subito Il mascara Con cui sicuramente Andiamo un pochino A camuffare La situazione Se eventualmente Non ci piace qualcosa E proviamo Un mascara Nuovo Che però In realtà Io sto già testando Da 3-4 giorni Perché prima di farvi La review Volevo provarlo E far assestare La formula Il nuovo mascara Di Extralandia Hacker Mascara E mi sta piacendo Mi sta convincendo Non mi incurva Non mi allunga Non fa miracoli Impressionanti Però nell'insieme Separa bene le ciglia Le definisce Le pettina Le allunga Le colora Le rende più intense E le incurva Un pochino Ripeto Non fa un effetto Ciglia finte Sulle mie Ma perché Non lo vedrete mai L'effetto ciglia finte Però conoscendo appunto Come sono le mie ciglia L'effetto Molto molto carino Provo a farvelo vedere Su quest'occhio Perché Il look Permette un po' Più di visibilità Ma non vi preoccupate Perché Presto lo provo Per bene Su tiktok Infatti Mi raccomando Venite a trovarmi Anche lì Anche se lì Siamo 350.000 Qua Quattro gatti Ciao mamma So che sei praticamente La mia unica Views Di questo video La cosa che mi piace Di questo mascara Tra l'altro È che Anche se si sta asciugando Ci mette un pochino Ad asciugarsi Ma anche quando è quasi totalmente asciutto Non rimane secco Quindi se io voglio fare una seconda passata Non mi fa l'effetto ciccione Pastoso Grumoso Ma mi permette di fare Un'altra passata Lasciando comunque le ciglia abbastanza Ancora definite Sottili Insomma Questa cosa è un bel vantaggio Secondo me È un bel punto a suo favore E mi piace Perché crea molto volume alla base Fa questo effetto Cioè vedete già la seconda passata Che sto facendo Come intensifica E apre ancora di più l'occhio E fa tanto volume qui alla base Quindi fa un effetto eyeliner Dicevo Proprio Occhio intenso Lo vado ad applicare anche dall'altro lato E torno Questi sono gli occhietti terminati Veniamo alle labbra Ma Prima di applicare un rossetto vero e proprio Mi è arrivato un pacchettino Da parte di un brand Che si chiama Rouge Rouge Con più dopo Non so come si chiama Sinceramente Nel pacchetto c'era questo lì Plumper Ora Qui abbiamo una situazione filler Quindi non ci serve Però Sono lo stesso curiosa Di provarlo Hello Non so perché ma Così proprio così professional L'argento Bianco Mi inquieta un po' Mi sa di prodotto che farà male Proviamolo Ho paura La sento che brucerà Non so perché Vediamo un po' Per ora Per ora tutto bene Luna di notte Tutto va bene Per ora non brucia Ha fatto soltanto Un effetto idratante Rimpolpante Glossato Non ho messo pure tanto Infatti Sto un po' sbavando Vabbè Intanto vi presento I prossimi prodotti Che possiamo provare Allora Qui abbiamo Le novità Di Astra Sempre della collezione Dei blush C'era anche un mascara Però l'ho provato una volta E l'ho messo a posto Quindi me lo sono totalmente dimenticato Me ne sono ricordata adesso Comunque era carino Ma lo devo riprovare Perché non è che mi ha lasciato Tipo wow E niente Nella collezione C'erano anche questi Madame Lip Stilo The Matte Quindi ci sono Sei tonalità Se non sbaglio Sei tonalità Di rossetti In stilo Matte Molto pieni E confortevoli Mi hanno fatto una buona impressione Ho provato due colori Per ora Quindi potremmo Ipoteticamente Provare questi Però Abbiamo anche Questi prodotti Di MAC Nuovi Locked Kiss Inc Sono dei rossetti Liquidi Quindi molto resistenti E Non lo so Sapete che forse Vado con questo Che si può adattare A entrambi i look Poi quelli di Astra Magari se vi interessa Dite uno nei commenti Che ve li swatcho Su TikTok In un video corto In cui li provo tutti Potremmo fare così Adesso sono curiosa Di provare questi Ma Non brucia Cioè Fa un bel effetto Rimpolpato Ma non sento le labbra Tipo Dopo il Viper O dopo quello di Plumpet Che è terribile Quindi Aspetto due minuti Poi lo tolgo Per applicare Il rossetto liquido Vabbè Meglio così Non sto morendo Beh L'ho rimosso Le labbra Sono belle Rimpolpate Le vedo anche Molto idratate Proprio le pieghette Si sono Tipo attenuate Però Non mi sembra Che abbia tipo Cambiato troppo La situazione Lo riproverò Adesso andiamo Con questa novità Di MAC Certo senza matita Magari no Ok Faccio al volo Il contorno Con una matita Un po' più Scurina Sempre di puro bio Della linea Long lasting C'erano anche rossetti Sempre di questa linea Appunto Ne ho provato uno In quel video Per oggi Volevo provare MAC E vediamo un po' Il colore Sembra molto bello Questo è l'effetto C'è un pelucchio Maledetto Sembra praticamente Il colore delle mie labbra Un po' più rosa Ok Sfumo bene Sistemo tutti i bordi Ma che bello In videocamera Sembra un po' più caldo Dal vivo È proprio Un bel rosa Nude Magari immaginiamolo così No Sembra caldissimo Ma non è così caldo Provo a cambiare le luci Non lo so Forse così Sembra un po' più realistico Non lo so No Si sta riscurendo Vabbè Comunque si sta asciugando Sta diventando sempre più opaco L'effetto mi piace tantissimo Non lo sento asciutto Secco Sarà anche merito Del lip lamp Perché è idratato per bene le labbra L'effetto Però mi piace Ok Direi che siamo arrivati Alla fine di questo video Provo novità Makeup Ignorate i miei capelli Questa mattina Non avevo veramente voglia Di sistemarli più di tanto Questo è il make up Che abbiamo tirato fuori La base Mi piace molto Gli occhi carini Preferisco questa situazione Qui Rossetto mi piace tanto Ma non sta bene Con questi look Secondo me Soprattutto in videocamera Lo vedo proprio Che non c'è zecca niente Con il colore della realtà Ottimo Nulla Fatemi sapere Cosa ne pensate Di queste novità Se acquisterete qualcosa Se volete provare qualcosa Se qualcosa L'avete già provato E che ne pensate Io vi ringrazio tantissimo Per aver guardato questo video Spero tanto di avervi fatto Compagnia Di avervi Fatto distrarre un pochino Nelle vostre giornate Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per non perdervi i prossimi video Che come sempre Vi ricordo Escono il venerdì alle 13 Se tutto va bene Ok E venite a trovarmi anche Su Instagram e TikTok Vi aspetto A braccia aperte Detto questo Vi mando un bacione